e siamo quasi pronti per servire la pasta e patate con le sette figli queste sette figli sono pasta, patate, rovola, arlugiano, pepe, pomodorini e pancetta e la troverete solo qui da Tupo bene? ok grazie siamo quasi pronti per impiantare vi accomodate che arriverà tutto a tavola grazie grazie